L'aloe vera è una pianta medicinale ampiamente utilizzata e rinomata per le sue diverse applicazioni terapeutiche. Il gel di aloe vera è rinomato nell'ambito scientifico soprattutto per le sue proprietà antinfiammatorie, immunostimulatorie ed immunomodulatorie. Lo scopo di questo studio era quello di andare a verificare gli effetti del gel di aloe vera sulle cellule T del sangue in vitro. Le cellule T del nostro sangue in realtà svolgono delle funzioni molto importanti come ad esempio eliminare le cellule tumorali oppure le cellule infette. Questo studio ha dimostrato come il gel di aloe vera abbia il potenziale per andare a ridurre la formazione, la proliferazione e la secrezione di citochine delle cellule T umane sane. È una notizia positiva? Assolutamente sì, dato che le citochine possono avere un effetto autocrino, ovvero possono andare a modificare il comportamento della stessa cellula che la secreta impedendo alle cellule T di andare a svolgere la loro funzione di difesa del nostro organismo.